Salve gente, qui parla Otakumen! Continuiamo con Like a Dragon Infinite Wealth! Che strano, nessun messaggio... Attenzione, devi prepararti perché poi non tornerai alle Hawaii mai più! Quindi ci accompagna pure... Mi domando se per caso dovesse... Adesso la butto lì... Se non ci dovessero essere vittime, diciamo... Tomisawa, resti qua? Resti qua tu? Dicevo, se non ci saranno vittime, non... Mi domando se nel futuro gioco, nel caso dovessero tornare alle Hawaii, non ci dovesse essere Yamai come compagno di squadra? Dai, Tomisawa, poche balle e salta su! E allora? Sei parte della squadra! Dai... Fa un salto! Fai l'ASOP della situazione! Tomisawa? Qui! Dai, dai! Che corsa ridicola, però! Oh, era solo una scenata! Ma va a cagare! Fallo, per favore, Adachi! Dove attraccheremo, però? Anzi, no, vabbè, c'è la guardia costiera, però anche nel caso, la guardia costiera... di quale città, esattamente, perché non mi sembra che ci siano molti punti in cui attraccare a Kamurocho. C'è un porto, ma è distante, almeno, se ricordo bene la geografia del luogo. Già? Ci hanno già beccati? Ah, mamma! Dwight, mamma mia! Sì, tenace è dir poco! Il grattugio via al tatuaggio glielo ficco dove dico io! Nel tipo, è tipo inutile andare avanti? Scontro sulla nave, dai! Non fatevele portare via, proprio adesso, per favore! Non adesso, quando siamo a mezzo centimetro dal salvarle! È una zona di caccia? Cioè? Stai alla larga dall'acqua... Uh! Pesci? Squali? Non può provare, è una zona di caccia! Cioè, se dici di stare lontano dall'acqua, che altro ci potrebbe essere, voglio dire? Il taglietto è in fronte, non l'avevo notato. Il taglietto è in fronte, non l'avevo notato. Ah, è vero! Non si sono giocati questa carta prima. Probabile. Sì, sì, questo è il terzo strike, caro Dio! Ok, che cazzo era un megalodonte! Merda! È questo che diceva, che intendeva con zona di caccia! Ma addirittura salta sulle navi, pensavo andasse così soltanto nei film! Ah, svolta sorprendente, sorprendente! Questo non me lo aspettavo proprio! Sì, ma gli squali mangiano i Barracuda, quindi... Ok, quindi come funzionerà qua? Ci sarà una specie di malus, gli squali che attaccano la barca ogni tanto? Vuole farlo? Siamo qui per questo, ormai! Se ti prendono è la fine? Ma in che senso se ti prendono? Non voglio mica farci un bagnere! Ok, quindi questo vuol dire che dobbiamo stare lontani dal bordo! Ok! Madonna, sono stati gli squali! Scusate, sono ancora un po' sorpreso da questa situazione! Con tutti questi Barracuda e quegli squali si può fare una bella grigliata! Speravo di poterlo sbattere più in là! Rinforzi in arrivo! Da dove? Eh sì! Che cazzo è? Teletrasport Geox! Inagguato! Vuol dire che stanno per arrivarci addosso, tipo! Magari... Oh! Adoro! Adoro sta battaglia! Nope! Nope! Al volo! Al volo! No! Ha mancato di mezzo centimetro! Però finisci in acqua, vero? Eh... No, no, no! Era una cosa perpendicolare! Ed eccolo qua! Servito! Ecco, nel tuo caso ti sputa e basta! Come dicevo prima! Combaccio perfettamente con quanto ho detto prima! Che cazzo ero lì così nella vita! Indietro, indietro! Ecco qua! Combo KO! Perfetto! Speravo di mandarlo lì! No! Oh sì! Sì 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 sì! Invece! Impasto agli squali! Non mi piace! No! No! C'è un ghiac! Attento! Valzo predatorio? Eh... Ok! Mi aspettavo molto peggio a dire la verità, ma... Dimmi che finisce giù! Dimmi che finisce giù! Dimmi che finisce giù! Squaletto! Sei ancora lì in agguato? Dimmi che finisce giù! Ma no, perché che cos'è allora? Dimmelo tu. Più mostro che uomo. Ma no, non l'avrei mai detto. Stai infreggendo da solo? Ah no, pensavo che si buttasse in acqua per gli squali. Ah, bravo! Qualcosa mi dice, già per come ti gusti in questo momento, mi sa che non ci arriverai a casa. O a... alle Alpi Svizzere, insomma. Il tizio però è sopravvissuto, non l'avrei mai detto. Molti piacciono seguendo gli odori, tipo quello del sangue. E' qualcosa di luminoso in mare? Eccolo lì. Solo per i gioielli? O dice per fare il simpatico? Dolce giustizia. Ancora più bello è il fatto che lui non ci sarà più. Grati per l'aiuto. Gli squali? Beh, i bastardi non devono morire in pace per me, francamente. Non se la meritano la pace. Mi aspettavo il fine capitolo, invece no. Quindi siamo a... Eh sì, territorio giapponese, ma quale parte del Giappone? Da passare ufficiale della guardia costiera. In quale zona? Piuttosto cupo. E' notte, genio. Ho uno strano presentimento. Non è che per caso ci circondano adesso i palcana. Una volta arrivati? Date? Non ricordo, chi è il Giba l'ha mai conosciuto. Ciao, Adachi-san. Ah beh, Adachi certo che lo conosceva, cacchio. Sì, quant'è che si sono conosciuti i Tiamini? Non me lo ricordo proprio. Makoto Date. Yamai? What? Come? Sei d'accordo con la polizia? Sì, non c'è il Giba l'ha mai conosciuto. Yamai Yutaka, da na. Come si è iniziato a rinforzare. Sono il Giba l'ha mai conosciuto. Ok. Udia, è venuto ad arrestarlo per l'omicidio del suo capo anni prima per caso? Shuji Tabata, esatto. E' un Giba l'ha mai conosciuto. Ma... 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 Aspetta un attimo, ma... Ma... E questo è il suo backstory che ci hanno mezzo spiegato prima, no? l'ho ucciso patriarca perché era innamorato di sua moglie e qualcosa del genere mi sembra e quindi è scappato alla Hawaii c'è dell'altro 30 anni all'estero vuol dire che ha usato il pretesto della confessione per portare qui dei poliziotti insomma veri e non ha il soldo dai palacana eh eh porca troia vabbè facciamo come vuole lui e basta ora si che posso dire anch'io che assomiglia molto a Ichiban porca troia Yamais è stato il migliore alleato che abbiamo avuto fino ad ora praticamente redenzione totale per quanto mi riguarda per quanto possa fare il duro madonna santa quindi adesso cosa fa il bastardo ah ok ok ora lo riconosco di più però il pretesto c'era kudos per Yamai ha un'altra un'altra cosa in agenda un'altra cosa in agenda forse però Yamai ha fatto di tutto e di più per per riportarci qua per riportarci qua lascia fare a loro lascia fare a loro per quanto mi riguarda per quanto mi riguarda Kiryu e Lain hanno la priorità però Yamai ha fatto molto quindi in due gruppi quindi Ichiban e qualcuno vanno a a cercarli insomma probabilmente Ichiban e Tomisawa il suo quello di Kiryu c'è E' la ex del suo vecchio patriarca. Non ci avevo pensato in effetti. Non credevo neanche fosse ancora in circolazione lei se è per questo. L'essenziale è che mentre andiamo a cercare Yamai, non rapiscano l'Aniacane. C'è un'altra cosa. C'è un ghi abbandonato la squadra Vabbè lui è abbastanza abile Da poter agire da solo Oh Kamurocho di nuovo Quanti ricordi Dell'ultimo gioco praticamente Ah no aspetta in Gaiden non c'era in realtà Credo Sa che c'era solo Sottenbori e i Jincho Credo che si ricorda della famiglia L'ufficio della famiglia L'edificio Kamuro numero 3 Pink Street Allora è la via Parallela a questa qua Grazie a tutti Grazie 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 a tutti.